Leida, al fianco delle famiglie, è in difficoltà a causa del covid. Da inizio marzo ci prendiamo cura dei loro animali novestici. Li portiamo in passeggiato, portiamo loro del cibo, ma purtroppo ci sono anche tanti animali che sono rimasti orfani, cani, gatti, anche conigli. Li ospitiamo nei nostri stalli, nelle nostre pensioni, li coccoliamo, ci prendiamo cura di loro, diventiamo i loro zii e troviamo loro soprattutto una nuova famiglia. A voi, finalmente vi consegno macchia. Grazie. Ringrazio la Leida per averci dato questa opportunità di poter adottare macchia. Siamo felici di tenerla in casa con noi e di avere un futuro insieme a lei. Lui è Kinder, un gatto meraviglioso con già una storia difficile alle spalle, perché la sua padroncina purtroppo è morta durante il covid. I volontari Leida ce lo hanno fatto arrivare qui fino a Milano e Kinder, avendo un carattere così dolce e grazioso, è stato subito adottato. è la testimonianza di come con poco si può fare tanto, aiutare gli umani, aiutare gli animali. Lui è Birillo, un gatto di undici anni e la sua mamma è morta di covid. ama le coccole, ama il contatto umano e ama mangiare. Birillo cerca casa e cerca una famiglia che gli vuole bene e assieme alla sua amica Risotta. Questa è Luce, è una cagnolina rimasta orfana e ha già trovato famiglia, stiamo andando a consegnarla proprio adesso. Io oggi ho avuto la fortuna di ricevere la piccola Luce in dono dalla Leida che ringrazio tantissimo, ringrazio questi due angeli che me l'han portata e prometto che gli darò tutto l'amore possibile perché se lo merita tutto picciolina e Luce.